Grazie a tutti. 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 Tu hai già dato un annuncio di Bignami? Che non c'è? Quello che lui chiama nel 1934 il nuovo idrogeno. Tra l'altro questa cosa mi è venuta per le mani perché c'è di mezzo qui Rino Majorana, lo zio di Majoran, sono un po' di questioni interessanti. perché è un luogo di un'errore, che è un'emergenza, perché un'enerzone di un'anuncio di blocco di Polic Benequio, è un'ulsione dell'esplanazione di un altro sulle leggi della natura fondamentali che si hanno, come dire, con la luce. perché dopo di lui c'era stato Bohr e così si erano spiegati gli spettri a righe e con Schrodinger si era praticamente la meccanica quantistica. Però poi a ben guardare precisamente, qui il fatto che bisogna cercare sempre di misurare con molta attenzione, soprattutto sistemi semplici, esatti, quello di fatti è lo spettro emesso dall'atomo, parte dello spettro emesso dall'idrogeno che è l'atomo unico calcolabile, anzi in tutta la scienza l'unica cosa che si calcola esattamente è l'atomo di idrogeno, a tutti i livelli, non c'è nient'altro che si calcoli esattamente. Però a ben guardare gli spettri, e qui ho preso quello del sodio perché mi era più interessante, si scopre che per esempio questo giallo non è un giallo preciso ma è fatto da un doppietto. Quindi luce che ci viene dagli atomi e che ci dà un'informazione. In questo caso cosa ci dice? Cioè stimola Dirac a mescolare meccanica quantistica e relatività ristretta e a costruire una delle più belle equazioni che esistono nella scienza, che è l'equazione di Dirac, e a spiegare il doppietto con lo spin, eccetera, eccetera, ma anche a farci vedere ancora più lontano. Cioè prevedere per esempio l'esistenza di un'antimateria insieme alla materia. Quindi tutte queste cose scaturiscono solo da aver cercato di capire il perché, come dire, di uno sdoppiamento dei colori, cioè della luce. I colleghi sanno che molta parte fondamentale della fisica è stata fatta osservando la luce degli atomi, diciamo il lamp shift, cioè l'elettrodinamica quantistica e via discorrendo. Quindi la luce è come fonte di informazione, capendo come davvero interagisce con gli atomi. E qui vengo ad un'altra cosa che deriva dall'aver capito un po' meglio l'interazione, diciamo, fra la luce e gli atomi. Stamattina è stato raccontato molto bene il meccanismo di emissione, assorbimento, come dire, della luce, eccolo lì, diciamo, come dire, dagli atomi. E qui Shaulow, parlando, come dire, del laser, dice ma io nel 60 non sapevo che esistesse la, questa è bellissima questa affermazione, che esistesse il distacco della retina. E se avessi voluto inventare qualcosa che servisse per curare il distacco della retina, cioè avessi voluto fare fisica medica, non sarei andato cincischiando, fooling around, con l'emissione stimolata d'atomi eccitati. Quello che abbiamo visto illustrare bene questa mattina è tutto il meccanismo di assorbimento, come dire, emissione, da cui scaturisce l'emissione stimolata, cioè il fatto che ci sia, possa esserci un'amplificazione, l'interazione fra la luce e, come dire, un sistema atomico, come dire, quantizzato, ed è quella cosa di cui appunto Shaulow parla, che però porta all'invenzione del laser, frutto di fantasia e che forse insieme al transistor è stato nel secolo scorso alla base della rivoluzione tecnologica di gran lunga, diciamo, più grande di quelle che ci hanno, eppure era fantasia. Allora il laser. Allora il laser, nell'immaginario collettivo, è quell'oggetto che, come dire, vi ricordo qui la Fiat, in un progetto finalizzato del CNR, appunto si fece comprare un laser per indurire le testate dei, come dire, dei cili, insomma, si applica per la forza bruta, ma, diciamo, l'immaginazione è sempre legata a manifestazione, diciamo, di vivacità, e i diversamente giovani ricordano come ci affascinò questa scena in cui il povero giovanissimo Sean Connery rischiava di essere, come dire, affettato. Cioè l'idea della luce laser che è una cosa potente, si usa per quello, per tagliare, bucare, eccetera. Ebbene, invece, adesso volevo dire due cose su qualcosa che era già ai tempi di Cheplero e che interpreterò per primo la coda, come dire, delle comete, che come sappiamo si allontana, diciamo, come dire, dal Sole, col fatto che la luce proveniente dal Sole esercitasse una pressione. Cioè che la luce fosse associata e non sapeva che erano onde, per esempio. Però intuì come dire questa cosa. Allora, su quest'idea della pressione di radiazione i fisici hanno continuato ad elaborare ed allora hanno giustamente pensato che l'interazione fra la luce, fotoni, e gli atomi non solo dovesse conservare l'energia, per cui assorbimenti, emissioni e cose varie, ma potesse essere anche vista come un fenomeno di collisione fra due particelle, il fotone e quindi a quel punto dovesse conservare anche l'impulso. Quindi l'idea che venne, ormai una trentina d'anni fa, fu quella di usare il laser per bombardare con questi fotoni minuscole palline, gli atomi, per vedere se, è come se uno avesse un campo di bocce e cercasse di rallentare il modo delle bocce con palline equivalenti a più, boom, 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 boom. In effetti se uno gliene fa assorbire e rimbalzare qualcosa come diecimila o centomila, si riesce un pochettino a frenare, come dire, gli atomi ed è questo il motivo poi perché la luce gela, perché con opportune configurazioni che si legano anche all'effetto DOP, perché uno vuole essere sicuro che, siccome gli atomi si agitano, viaggiano quasi a un chilometro al secondo, per esempio, a una temperatura di questa stanza. E allora uno vuole essere sicuro che l'atomo, quando va verso un fascio laser, diciamo, venga appunto rallentato ed allora si gioca sull'effetto DOP, cioè la luce si mette un pochettino non proprio in risonanza, spostata verso il rosso, in modo che l'atomo entri in risonanza quando va verso la luce e quindi appunto venga frenato, invece da dietro non è più in risonanza, c'è un po' di, come dire, di fantasia appunto di tutto questo, però è stato di fatto che si riesce a fare in modo di, come dire, rallentare, diciamo, di fermare gli atomi. Fermare. Cioè, abbiamo detto un chilometro al secondo, si riesce a portarli a qualche centimetro, come dire, al secondo. Allora, questo per cosa ci serve? Ci serve per tanti motivi. Certamente per misurare il tempo. Cioè, luce e tempo dall'inizio dell'umanità sono sempre andati di pari passo. Perché il succedersi del giorno e della notte è stata la base per misurare il tempo, così le stagioni, diciamo, e via discorrendo. E qui il legame torna con la storia degli atomi. Difatti, come si misura il tempo? Il tempo si misura con un fenomeno, come dire, periodico di oscillazione, che secondo la favola è dovuta all'osservazione del lampadario lì a Pisa. E quindi la possibilità, come dire, di contare le oscillazioni. Uno al secondo, plof, plof, e quella è la base, come dire, dell'orologio. Naturalmente, quella è una base molto bella, ma la precisione è legata al numero di oscillazioni che ho in un secondo. Cioè, se io ho poche oscillazioni in un secondo, se sbaglio di una, sto sbagliando di molto. Ma se invece di avere il pendolo meccanico, vado, che so l'orologio al quarzo, a un quarzo che oscilla per effetto peso elettrico, le oscillazioni diventano decine di migliaia, sono di più, quindi io potenzialmente posso fare, ho un oscillatore che può essere alla base di un orologio, come dire, più preciso. E da un certo punto si riarriva agli atomi di cui parlavamo prima. Cioè, l'atomo, questo è lo schema dell'atomo di Cesio, esattamente 60 anni fa, i metrologi inglesi introducevano l'orologio atomico, perché qui, come dire, ho due stati separati in una struttura che chiamiamo iperfine, per cui le oscillazioni sono di 10 miliardi di volte, come dire, in un secondo. Mi viene a mente di dire che io ho iniziato la mia carriera qui a Torino con una borsa, appena laureato, e lì la rivoluzione era che c'era una mezza idea di fare un orologio che invece di usare il Cesio usasse il taglio, perché la separazione lì era, non mi ricordo, 24 o 29 gigas, comunque era praticamente tre volte di più di quella... cioè l'idea era di andare verso frequenze più alte, quindi è strano, la storia, diciamo, continua, però qui veniamo a quanto avevo detto io prima, questi atomi si agitano, si muovono, quindi io posso anche avere l'oscillatore che uscilla molto di più e che quindi potenzialmente mi fa misurare il tempo con più precisione, ma mi scappa, cioè io non ho il tempo di vederlo, ed ecco che il fatto che la luce possa servire a rallentare il modo degli atomi è cosa molto importante perché se io faccio una configurazione lungo i tre assi diciamo coordinati, in effetti riesco più o meno a impalloccare, come dire, gli atomi di cesio e con velocità dell'ordine dei centimetri al secondo e di nuovo ispirati dal concetto di fontana che è quello che succede quando voi mandate che sono un sasso in alto, arrivi in alto e poi come dire ridecade, diciamo i fisici e qui Torino è stato fra i protagonisti al mondo riescono a costruire un sistema perché si prendono questi atomi di cesio con la luce si frenano si impacchettano se volete poi gli si dà una botta da sotto questi vanno in alto si fermano e poi ridecadono allora in quel momento in cui quasi si fermano e diciamo che sono Levi e compagni che è qui seduto riesce a misurare queste oscillazioni che dicevo di 10 miliardi di volte al secondo senza che gli atomi li scappino ed è questa la cosa pratica naturalmente questa è quella che invece è in Colorado è vero che è in Colorado quella è molto più spettacolare perché sembra una rampa però ce ne sono di queste ormai che non so una decina in giro in punti strategici del mondo ed è questo che dà il tempo quindi qui la luce entra perché dà lo strumento per fermare gli atomi interrogarli e via discorrendo anche se poi l'interrogazione avviene alle microonde a parte che per la fisica microonde o visibili è la stessa cosa perché è sempre l'equazione di Maxwell però diciamo non è propriamente luce visibile e questo qui come dicevamo ci dà tutti questi qui in giro si controlla il tempo il tempo universale su cui ci troviamo d'accordo e tutto il mondo quindi ha questo famoso tempo e così abbiamo risolto il dramma di un illustre tedesco che ha quasi mostrato anzi ha mostrato stamattina Adriano Zecchina perché è quello di Goethe sempre qui ripreso da Varol ora capisci perché dovevo andare a perché Goethe siccome era tedesco appunto lui appena arrivò in Italia è arrivato solo a Verona nemmeno quindi proprio Italia insomma è abbastanza Italia già però visto da me che vengo da Lecce dubito rimase sconvolto perché scoprì che gli italiani misuravano il tempo in una maniera anomala strana irregolare e soprattutto lui era turbato dall'idea che lo misurassero in 12 dividendo 12 più 12 invece che 24 poi partivano da cose diverse insomma c'erano tutti vari problemi e però da bravo tedesco ancora non c'erano stati il tempo su cui tutti si trovano d'accordo se voi andate alle prime 30-40 pagine del suo diario scoprite che lui diceci questa stranezza di questi italiani è appunto ripeto da persona precisa subito fornisce il disegno con la conversione del tempo nostro diciamo ma poveretto era di quello di Verona per cui se voi fosse andato ancora oltre avrebbe scoperto che quello di Verona era diverso da quello di Pavia oppure da quello di Ragusa questa è Ragusa che è ancora una cosa più elaborata cioè si usa sempre la luce però si usa sempre in maniera come dire diversa quindi cosa ha fatto la metrologia sostanzialmente ha diciamo unificato il come dire il tempo e e soprattutto ha fatto fuori se volete quella che era la maniera naturale di misurare il tempo con la luce questa questa foto è presa quasi al capo di Buona Speranza quindi un sistema che vale dovunque diciamo in tutto il funziona finché c'è il sole quindi ecco che luce e tempo come dire vanno vanno di pari passo e con gli atomi fra l'altro questo non l'avevo detto se ci pensate siamo passati dal pendolo che è comunque un artefatto diciamo una cosa artificiale siamo passati agli atomi che è comunque una cosa naturale un oscillatore come dire naturale e qui siccome molti quadri stamattina sono stati mostrati allora dovevo mostrare ancora anche io uno e questo è un quadro appunto di De Chirico che è molto intrigante perché appunto si chiama l'enigma dell'ora quindi sicuramente lui sa della luce della meridiana vedete come dire c'è qui ma questo come sapete è l'ingresso di una stazione ferroviaria e qui queste tre non sono proprio le tre sì forse sono le tre ma le due lancette non vanno molto d'accordo quindi c'è un chiede enigmatico ora sappiamo che De Chirico aveva passato molto tempo a Monaco anche chiacchierando con Einstein diciamo e via discorrendo però se rimaniamo con gli orologi con la fontana quello che raccontavo prima universale eccetera non si capisce questo quadro diciamo per capire davvero questo quadro dal punto di vista scientifico bisogna andare un pochettino oltre sempre utilizzando la luce che gela perché negli atomi ci sono transizioni fra livelli che sono appunto separati di oscillazioni di 10 miliardi di volte però ci sono anche delle belle transizioni che abbiamo visto prima con l'idrogeno che sono nel visibile cioè luce visibile che sono oscillazioni che avvengono un milione di miliardi di volte quindi potenzialmente posso andare a precisioni ancora più elevate allora a questo punto la ricetta c'è tutta posso usare la luce per per intrappolare questi atomi posso a questo punto andare a interrogare queste transizioni che sono nel visibile quello è un è su un orologio allo stronzio che noi non abbiamo a Torino non abbiamo in Italia ma che avremo presto diciamo a Torino e invece loro a Torino lavorano con un altro atomo il terbio sarebbe stato colorato diverso verde giallo ma insomma comunque non sempre lì siamo cioè tutti i colori visibili e su questo allora su questi orologi come abbiamo detto che oscillano più più rapidamente e si possono fare orologi più precisi e la cosa che è affascinante è che questi atomi che vi ho mostrato prima posso vederli uno ad uno questa immagine è stata presa esattamente cento anni dopo l'atomo di Bohr quelli sono atomi singoli che io vedo e questo movimento non è delle stelle che brillano ma è semplicemente perché siccome sono oggetti quantistici allora per poterli li ho raffreddati poi con la luce ho creato una specie di scodella tipo quella dove si mettono le uova e però siccome non sono uova ma sono oggetti quantistici possono fare effetto tunnel come se ci fosse un tunnel per tornare alla storia prima come dire dei neutrini e quindi quello che si vede che fa tuc 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 ma di fatto stanno lì cioè io ho preso questi atomi che possibili orologi come dire li ho intrappolati cosa mi manca però mi manca un altro ingrediente fondamentale per fare un orologio perché il pendolo è facile contare una due anche alle microonde dopo la seconda guerra mondiale si sono sviluppate tutte le tecniche anzi durante la guerra mondiale per misurare miliardi di oscillazioni al secondo ma quando vado in invisibile come faccio io a misurare beh è una cosa che non era banale qui c'è riuscito cioè ecco come si fa a fare l'ingranaggio questa è la copia del disegno che abbiamo al museo Galilei a Firenze di come si si passa dal pendolo al meccanismo per misurare il tempo allora lì l'oggetto è un dispositivo fatto sempre con la luce in cui voi vedete quello che sembra un arcobaleno che tante volte abbiamo visto oggi ma in effetti per alcune finezze è un arcobaleno fatto di tanti dentini tutti equidistanziati quindi quel verde viene spezzettato in tante quindi uno può misurare a questo punto le oscillazioni come dire della luce si chiama pettine di frequenze abbiamo tutto quindi possiamo fare gli orologi e arriviamo ad accuratezze di miliardesimi di miliardesimi di secondo e voi direte boh questa è sempre la critica che viene fatta diciamo a chi va si spinge troppo in là beh vi dico io cosa significa intanto significa che ci sono delle teorie fondamentali della fisica che prevedono che il tempo e la gravità non siano indipendenti e ho saputo oggi a colazione che questa accademia anche lei celebrerà i cent'anni dell'introduzione della relatività generale di come dire di Einstein allora è noto che la previsione della teoria era che la gravità eserciti un freno diciamo lo scorrere del tempo ed allora un illustre membro di questa accademia si grido l'eschiutta si prese l'orologio al cesio che era appunto a Torino lo portò al plateau rosà per andare molto in alto e fu tra i primi al mondo negli anni settanta a dimostrare che davvero c'era un'evidenza dello shift come dire gravitazionale e dovete andare qui da da Corso Massimo d'Azelio fino al plateau rosà adesso con quegli orologi che sono al miliardesimo di miliardesimo di secondo sono talmente precisi che basta sollevare il tavolo di una ventina di centimetri e si vede che il tempo cambia quindi si ha la relatività generale allora questa è un'accademia quindi abbiamo i colleghi geologi e avendo i colleghi geologi che vogliono fare la geofisica uno subito dice che allora sotto le Alpi nel Trejus c'è quasi in funzione uno di questi orologi che di nuovo con una fibra che corre lungo l'autostrada Torino Bardonecchia viene collegato con la luce a quello che c'è in strada delle cacce che poi è questo ed allora uno può seguire si sa già che il tempo è più veloce però può seguire il cambio della gravità perché siccome il tempo dipende dalla gravità allora io con la luce misurando il tempo di fatto misuro le variazioni locali della gravità quindi nel succedersi delle stagioni movimenti come dire tettonici falde e robe di questo tipo cioè che cosa sta succedendo grazie alla luce che gela e che ci fa fare questi orologi precisi di fatto si scopre che anche la relatività generale che è una teoria fantastica che nasce peraltro in qualche maniera da basi legate alla fantasia di Riemann di questi che hanno fatto le geometrie insomma un po' sofisticate quindi è questa quindi astratta uno dice boh ma che la stai facendo a fare ebbene anche la realtà generale anche quella matematica cent'anni dopo diventa una scienza applicata quindi ormai parte è partita già una scienza di geodesia come dire relativistica visto che ho citato il fatto che se questi orologi fossero stati messi in funzione in questo momento voglio dirvi ora starebbero sbagliando di meno di un secondo più o meno questo è il tipo di accuratezza per dare un'impressione però lì c'era il Big Bang allora c'è l'espansione dell'universo allora cosa può succedere se io guardo l'universo e questa è un'immagine dell'universo fatta alle microonde cioè non nel visibile ma sempre luce che ci viene diciamo se io faccio vedo questa immagine mi accorgo che dovunque c'è questo fondo cosmico che è il residuo fossile della radiazione che c'era un po' dopo il Big Bang e che io adesso come dire sto osservando quindi qui di nuovo la luce devo dire che ci fa leggere molto il passato e che ci parla di freddo perché lì le temperature come dire sono bassine per avere un corpo nero che corrisponde a come dire a microonde e e qui ho voluto mettere questa questa immagine per dire come non solo bisogna seguire la fantasia ma bisogna anche saper cogliere l'attimo in effetti Herzberg che soprattutto per i chimici è un maestro diciamo spettroscopista guardando prendendo degli spettri di radioastronomia aveva visto che c'erano qui dei picchetti e aveva osservato dice guardate è come se fossero le righe del CN come si dice carbonio carbonio azoto nitruro di carbonio o no ma non so se c'erano oggio comunque CN sì CN e lui disse ma guardate dice è come se fossero quelle però non può essere perché se fossero quelle con quell'intensità eccetera lì dovrebbe corrispondere una temperatura di due gradi Kelvin e mezzo e disse questo ovviamente non può essere invece era così perché certamente quindi per dire uno deve anche essere capace di di cogliere di capire le cose e beh adesso giusto per dirlo visto che stamattina si è parlato di molecole il cosmo è pieno di tante molecole che noi vediamo grazie se volete alla luce ancorché non visibile che arriva sulla terra e sempre per riprendere il discorso di Torino e e del Lenz diciamo le due istituzioni che ora mi vedono in una sovrapposizione come dire di stati il collegamento non solo Valfregius ma intanto già funziona con il Lenz passa per Bologna dove c'è un radiotelescopio dell'INAF e qui le cose che si stanno sviluppando è di vedere per esempio lo spettro di una molecola in laboratorio oppure che viene da lontano e quindi vedere se quella molecola di un milione di anni fa è la stessa di adesso insomma si aprono scenari come dire di un qualche di un qualche interesse quindi abbiamo fatto vedere che siamo freddi siamo molto più freddi del del cosmo siamo ancora molto più freddi della superfluidità o superconduttività del CERN perché noi in effetti stiamo da queste parti cioè siamo così in basso che gli atomi iniziano ad avere un comportamento ondulatorio per il principio di De Broglie allora l'idea cos'è però che se io raffreddo sempre di più l'onda associata ad un atomo diventa sempre più estesa e da un certo punto non avrò più due atomi individuali ma l'uno si confonde nell'altro perché va tutto in un unico cosa dovesse succedere lo capirono Einstein nel 25 lo capì Einstein nel 25 e l'idea era che passando ancora più giù di temperatura finora gli orologi eccetera li abbiamo fatti da queste parti di temperatura quando quindi sono tutte ondine ma comunque separate si può ottenere che tutti finiscono in un'unica in un'unica onda quindi la previsione è che si dovesse realizzare il condensato di Bose-Einstein che è una transizione di fase che è puramente quantistica diciamo avviene semplicemente perché gli atomi cambiano la loro natura da corpuscolare diventano ondulatori per causa della meccanica quantistica come dire si sovrappongono allora devo fare quest'ultimo pezzettino di freddo non è stato banale farlo ma di fatto si fa facendo evaporare gli atomi più caldi quel contenitore che vedete è fatto a sua volta di luce cioè gli atomi raffreddati in questo modo li intrappoliamo ancora nella luce facciamo evaporare come dire quelli più caldi un po' le perdiamo ovviamente anzi molti li perdiamo però alla fine se va tutto bene quelli che rimangono e diventano una cosa nuova diventano il condensato diciamo di Bose-Einstein e questo è molto bello perché tanto per cambiare per esempio da ragione a Lucrezio che nel De Re Rum Natura diceva gli atomi si rallentano rallentano in modo però sbagli a pensare che si possano fermare dice al suo interlocutore in effetti non si fermano perché poi ce lo dicono molte cose della fisica non debbano fermarsi però ecco personaggi come Einstein o come Fermi che lo fece per i Fermioni si può con i problemi d'accordo non si fermano ora che succede e succede il condensato di Bose-Einstein allora qui vi mostro una cosa che è interessante cioè è quando il condensato diventa condensato e qui la cosa interessante è che finché un oggetto è molto freddo però è sempre fatto di atomi freddi quando io rompo il contenitore loro espandono in maniera isotropa quando invece è diventato un condensato conserva l'aspetto diciamo del recipiente in cui l'ho tenuto questo recipiente di luce per carità che è un po' oblungo e quindi è successo qualcosa di nuovo questo qualcosa di nuovo che è successo è che questa è la fotografia di questo condensato di Bose-Einstein è diventato un oggetto quantistico macroscopico e questo apre nuovi scenari cioè voi avete una cosa grossa che potete vedere fotografare maneggiare che però segue le leggi della meccanica quantistica a cominciare dal principio di determinazione di Heisenberg perché io l'ho intrappolato in questa cosa oblunga però Heisenberg mi dice che se io lo definisco molto in una direzione allora lì bisogna che poi in quella direzione espanda più velocemente di fatti vedete che il il l'oggetto cambia forma perché espande cambia si dice aspect ratio l'aspetto lo cambia vedete anche che il baricentro segue esattamente una parabola difatti un'altra branca della scienza che è legata ancora una volta alla geologia che si va sviluppando e che adesso è possibile misurare la gravità con degli interferometri basati su atomi freddi semplicemente perché sono dei sensori che cadono nella gravità seguendo leggi specifiche precise e quindi si possono fare anche dei gravimetri allora abbiamo fatto il condensato di bosonistà naturalmente vent'anni fa e quindi se sono se sono bosoni finiscono tutti nello stato più basso come abbiamo detto della scodella se sono fermioni questo fu fermi a prevedere che invece no potessero andare solo uno per livello possibile di energia perché i fermioni non socializzano ebbene allora io bisogna che mostri questa immagine questa è una cosa che facemmo a Firenze un po' di tempo fa questo è un condensato di rubidio questo è un condensato di potassio che sono è la fotografia proprio fatta con telecamere CCD e sono tutti e due condensati che si impalloccono eccetera allora se però al potassio 41 sostituisco potassio 40 che invece è fermione lo vedete che non collassa più non è come il bosone ma si come dire si sparpaglia esattamente come era previsto dai chi e questo uno deve mostrarlo come era stato previsto nel 26 di Enrico Fermi stesso su un prato accanto al laboratorio dove noi poi abbiamo fatto il gas di Fermi de genere e questo a febbraio prossimo lo annunciò per primo ai lincei rendi conto i lincei e di fatto anche noi stiamo facendo una proposta di convegno per celebrare questi non so quanti sono 90 anni e quindi insomma è molto è molto divertente come dire la storia che adesso con la luce uno geli fino a vedere che quello aveva avuto ragione beh mi avvio beh questa è un'altra cosa che mi piace mostrare perché mi fa vedere come è cambiato il tempo questo era Fermi che si scriveva l'articolo scrivendosi le formule questo è l'articolo che manda lo Zeiss für Physique e non solo e che fa la correzione vedete qui aveva dimenticato di metterci qualche cosa c'è un po' diverso come facciamo adesso vero che noi se manca una virgola stampante laser comunque questo fa parte della non solo e poi un lavoro di questo genere che viene comunicato in italiano in un'accademia ci viene affidata a Garbasso dice vada quindi sono cose interessanti allora ho scelto qualcosina visto che il condensato è bello allora il condensato è come avere tutti gli atomi in uno stesso stato un po' come il laser quindi quel fascio che vedete non è un fascio laser ma è un fascio di atomi come dire coerenti e poi ho preso un po' di figure immaginando quello che avevo visto stamattina io con la luce a questo punto posso mettere posso guidare questi atomi per esempio posso metterli in una struttura periodica che è quella tipica dei cristalli quindi posso mettere un atomo qui un atomo qui un atomo qui un atomo lì come per la verità vi ho mostrato prima per gli orologi è la stessa cosa ma adesso posso fare di più posso proprio costruire un cristallo dimensionale allora i cristalli sono la base della fisica dello stato solido e in questo modo quello che ha fatto la fisica è di andare a studiare la base i fondamenti appunto dei cristalli e dello stato solido ma non solo è possibile passare da un cristallo regolare dove c'è un passo regolare aggiungendo un altro oggetto periodico è possibile passare a una struttura un po' disordinata oppure a un quasi cristallo perché è un cristallo dove però la periodicità non c'è si riproduce dopo un certo tempo cristalli che si diceva non dovessero esistere noi questo l'abbiamo fatto per studiare il disordine però sono rimasto molto contento di vedere che un nostro collega giovane di Firenze che abbiamo premiato con un premio come dire importante questo Bindi proprio nel museo di mineralogia di Firenze aveva visto aveva scoperto che uno di quei cristalli che c'erano lì che venivano dagli Urali era davvero un quasi cristallo mi ha trovato un secondo come? mi ha trovato un secondo il secondo è un minerale poi hanno anche capito che viene che sono cristalli di origine extraterrestre che sono arrivati con meteoriti però vi confesso io volevo studiare il disordine perché essendo un italiano meridionale per giunta sono stati i tedeschi i primi a fare le cose ordinate i cristalli allora dico noi dobbiamo fare il disordine perché noi non siamo solo se ci pensate non siamo solo bravi a fare disordine ma lo controlliamo insomma siamo capaci di andare in macchina allora dico noi dobbiamo fare disordine come si va a fare disordine si rompono le scatole a questo reticolo regolare mettendogli in un altro un po' irregolare non sapevo nulla che ci fossero i quasi cristalli eccetera però ebbe a scoprire allora scoprimmo che c'era una bella coppia di matematici fisici che avevano fatto il modello di un oggetto in un sistema quasi periodico e quindi c'è una miltoniana e quindi davamo ragione a a Feynman la seconda volta che compare che nell'82 come saprete scrisse un articolo fondamentale che è alla base del calcolo quantistico perché prevede che si possa fare un calcolatore quantistico e anche il simulatore quantistico cioè siccome non si possono fare i conti conviene cercare di inventare qualche cosa che simuli gli ammiltoniani e questo ormai sta avvenendo ormai si parla di quantum ingegneria ingegneria quantistica avendo gelato la luce ma quella cosa disordinata ha delle applicazioni ormai si fanno celle solari disordinate per cui invece di pensare all'efficienza del materiale si mette questo materiale in modo disordinato in modo che la luce del sole arrivando venga intrappolata un pochettino un pochettino di più usando il disordine però siccome quello aveva previsto il calcolatore quantistico allora noi uno dei sogni diciamo che ha questo tipo di fisica degli atomi ultra freddi raffreddatissimi dalla luce è quella di usare le loro transizioni fra livelli che sono delle transizioni evidentemente quantistiche c'è la storia che l'oggetto poi esiste in tante sovrapposizioni come dire dei due stati per avere dei bit quantistici e quindi leggere ognuno di questi atomini che finora stiamo leggendo come orologi perché alla fine sta funzionando l'orologio ma che potrebbero invece essere letti poi come bit quantistici per fare un calcolatore quantissimo quindi si aprono scenari naturalmente la gente dice che chissà quando mai questo avverrà però mi sono divertito a mostrare davanti all'immagine che c'è sul computer di quegli atomini ho messo questo valvolone che qui a leggere bene leggereste esente dalla tassa radio perché era usato per fare cose scientifiche e quello è uno dei 500 valvoloni con cui è stato fatto il primo calcolatore elettronico italiano con l'aiuto di Olivetti ma su spinta di Enrico Fermi a Pisa e io vabbè quindi per dire i progressi occupava tre stanze a Pisa quindi chissà che un giorno non si vede però vorrei chiudere dicendo che quello che ci spinge è la fantasia questo è quell'astronauta che pensa che utilizzando una quarta dimensione possa mettersi in contatto con la figlia diciamo in un film di fiction e una giornalista del Corriere della Sera di qualche settimana fa ha in effetti detto che la finzione forse era diventata realtà perché appunto fra Firenze e Torino in un sistema atomico quello lo stesso che si usa più o meno per gli orologi si riesce a realizzare la quarta dimensione e questo ovviamente non mostro non voglio mostrare dettagli però questi sono atomi speciali che hanno una variabile di spin che i fisici chiamano colore quindi di nuovo tornano i temi della della luce ci sono sei colori possibili diversi in una simmetria che chiamiamo s-u-n cioè tutti si comportano tutti come dire nella stessa maniera e quello che siamo riusciti a fare è un salto da un colore all'altro che dal punto di vista della miltoniana formale è analogo a saltare da una posizione all'altra quindi abbiamo l'atomo si muove anche lungo questa quarta dimensione e ora a parte il titolo come dire del Corriere della Sera la cosa è seria perché è stata anche diciamo pubblicata diciamo da una rivista scientifica quindi cioè quindi alla fine del gioco atomi gelatissimi un po' diversi da quelli con cui vi ho mostrato prima di scene ma che hanno questi questi differenti colori diciamo ci stanno dando la piacevolezza di osservare un'extra dimensioni per cui per esempio posso avere effetti di bordo studiare effetti all quanti insomma un po' di roba come dire di base quindi veramente sembra che questi atomi ultra freddi raffreddati dalla luce possano avere un futuro però vorrei chiudere ispirato di nuovo dal dal seminario di Adriano di stamattina mostrando anch'io queste questi credo che fossero dinosauri questa immagine è stata presa poi tu devi indovinare dove è stata fotografata da moglie e figlio e questi sembrano dei danzatori intorno a questo che è il fuoco quel rosso poi era spiegato come era fatto poi ne discutiamo e in effetti si tratta di una danza queste sono danzatrici intorno a questo fuoco perché il fuoco evidentemente affascina e affascina tuttora perché quella roba è stata ripresa da antropologi invece di adesso non so se di adesso magari di 50 anni fa ma insomma evidentemente è una cosa universale questa la bellezza del fuoco l'interesse alla luce eccetera eccetera e allora un fisico poveretto vedendo il fuoco si mette a dire che un corpo nero le temperature di calore tutto quello che abbiamo parte di quello che abbiamo sentito diciamo stamattina in effetti io penso che quello che ci spinga sia piuttosto questo che vi leggo in conclusione cioè avevo creato qualcosa che prima non esisteva me ne rendevo conto ed ero orgogliosa del mio successo già stavo per andarlo a raccontare però non l'ho fatto perché non gli è importato nulla perché mi avrebbe chiesto ma che cosa serviva cioè non serviva a nulla però era bello era soltanto bello allora sospirando rinunciato ad andarci perché non costruiva una capanna non migliorava la maturazione dei meloni eccetera ma per me non era una cosa spregevole o fuoco leggiata creatura color di rosa ti amo perché sei bello quindi quello che ci affascina diciamo sia nelle cose naturali che nelle cose artificiali che noi costruiamo in fondo è la bellezza diciamo è la bellezza della luce che poi è quella che ci come dire che ci muove e con questo vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti